Ciao ragazzi, è tanto che non ci vediamo con un video qui su YouTube. Ma senza soffermarci troppo su questo, oggi voglio portarvi con me nella realizzazione di un nodo Bitcoin. Un nodo Bitcoin che è fondamentale per contribuire all'integrità della blockchain e quindi renderla più sicura e decentralizzata. Inoltre ogni qualvolta che avviene una transazione su una blockchain, questa transazione deve essere validata. Per essere validata si passa attraverso un nodo, quindi avere il proprio nodo Bitcoin ci permette di aumentare anche la nostra privacy perché potremo validare le nostre transazioni, in questo caso sulla blockchain di Bitcoin, autonomamente. Per realizzare il proprio nodo Bitcoin avremo bisogno di un computer, come può essere questo, ovvero un mini computer molto compatto e devo dire anche molto comodo. Io già ce l'avevo ma se ne trovano soluzioni del genere su Amazon per anche 100 o 150 euro. Ovviamente dipende anche da quanto volete spendere. L'importante è che questo PC abbia una CPU con almeno due core. Se ne ha di più è meglio, ma due è il minimo. Poi una RAM di almeno 4GB, ovviamente anche qui se ne ha di più è meglio. E inoltre uno storage interno di almeno 32GB. Questo ne ha 256 se non erro su SSD, quindi è ancora meglio. In alternativa, se non volessimo usare un computer tipo questo, andrebbe bene anche una Raspberry. Questa purtroppo però è una Raspberry P3 tipo B. Se non siete tecnici non c'è problema. L'importante è sapere che questa qui, la tipo 3B, se non sbaglio plus, non va bene perché per farlo serve una Raspberry P4 o superiore. Questo per gli stessi motivi che dicevo prima. Ovvero non ha abbastanza RAM e non ha una CPU che è dual core. Ma togliendo di mezzo la Raspberry, io utilizzerò appunto questo computerino e almeno un hard disk da 1Tera. Il sistema operativo che dovremmo utilizzare per avere il nostro full node di Bitcoin si chiama UmbrellOS. Per poterlo scaricare andiamo sul sito di Umbrell.com, che ovviamente vi lascio qui sotto in descrizione. Clicchiamo qui su UmbrellOS e scendendo un po' sotto vediamo come è possibile scaricare UmbrellOS per Raspberry Pi oppure su un altro device come ad esempio il mio minicomputer. Quindi cliccherò qui su auto install e in realtà possiamo seguire qui i passaggi che ovviamente io adesso vi illustrerò. Per prima cosa dobbiamo fare il download di UmbrellOS. Quindi cliccherò qui e andrò a scaricare per comodità il mio installer sul desktop. Dopodiché dovremmo scaricare e installare Balena Hatcher. Balena Hatcher non è altro che un software che ci permette di caricare su una chiavetta USB un sistema operativo. Quindi poi lo attaccheremo al mio minicomputer e questo fare in modo di caricare il sistema operativo sul mio computerino. Clicco quindi su download Hatcher e poi Hatcher for Windows x86 x64 installer. Ovviamente se avete un Mac lo scaricherete per macOS o se stanno utilizzando Linux. Lo scaricherete per Linux. In questo caso io sto utilizzando Windows quindi cliccherò sulla prima voce. Download. Stessa cosa per comodità lo installerò sul desktop. Dopodiché prendiamo una chiavetta USB come questa, l'importante è che abbia almeno 4 GB, e la colleghiamo al nostro PC. Perdonate il casino sul mio desktop ma una volta installato facciamo doppio clic su Balena Hatcher e una volta aperta questa schermata clicchiamo su Accetto e aspettiamo l'installazione. Ok, una volta aperta questa schermata clicchiamo su Flash from File, andiamo a cercare il nostro file, eccolo qui, Umbrella OS, e clicchiamo su Apri. Una volta fatto dobbiamo selezionare la chiavetta USB sul quale mettere il sistema operativo. Quindi clicchiamo Select Target, l'unica che abbiamo è USB Stick 2.0, che sicuramente è questa perché non ho altro. Clicco Select e vado avanti. Ci apparirà questa schermata e noi diremo di sì. E adesso dobbiamo semplicemente attendere che il sistema operativo venga impresso sulla chiavetta. Ok, adesso è in flashing al 5%, quindi non mi ha dato errore e sta andando avanti. Qui sotto non si leggerà, immagino, perché è scritto grigio, chiaro su grigio leggermente più scuro, quindi non si legge, ma c'è scritto 3 minuti. Noi comunque attendiamo finché non ha finito e ci vediamo dopo. Adesso è passato da flashing a validating e aspettiamo che venga validato. Ecco, flash completed, quindi è tutto a posto. Adesso rimuoverò la chiavetta USB, eccola qui, e dovrò andare a scollegare il cavo HDMI dal mio computer, il mouse e la tastiera e collegarlo al minicomputerino. Ok, tralasciando il cable management e tutti i cavi qui dietro che non sono molto carini, poi li sistemerò. Ho attaccato tutto, il monitor, la tastiera, il mouse, la chiavetta USB dal quale prendere il sistema operativo e l'hard disk. Ovviamente prima non l'ho detto, ma se voleste prendere un SSD sarà tutto più veloce, ma l'SSD è anche molto più costoso. Ok, adesso dovremmo far ripartire il computer e in base al vostro computer dovete cercare su internet come entrare nel BIOS. Per il mio PC basta cliccare F10 quando appare questa schermata, quindi sostanzialmente appena acceso il computer, e continuo a cliccare F10 finché non mi entra nella schermata del BIOS. Ok, questo è il BIOS, quindi ci troveremo in questa schermata. Ogni BIOS è diverso, ma generalmente è molto intuitivo. Per poter dare priorità alla USB stick per far partire il sistema operativo e non il sistema operativo che è già installato, che in questo caso è Windows, dovremo andare probabilmente su Advanced, sì eccolo, Boot Options. Clicchiamo qui ed ecco che scendendo qui sotto, facciamo Enter, vediamo come in ordine di importanza c'è il Windows Boot Manager e sotto la USB disk 2.0. Con la freccetta verso il basso mi sposto verso USB disk, clicco Enter, poi con le freccette vado verso l'alto, la sposto sopra e clicco di nuovo Enter. Adesso nella priorità di importanza abbiamo USB disk 2.0 e sotto il Windows Boot Manager. Ma per essere ancora più sicuri, questo non ce l'hanno tutti i BIOS, o meglio non sempre si fa così ma ci sono altri metodi, questo è molto semplice perché posso scendere con le freccette su Windows Boot Manager, cliccare F5 e lo disabilito anche. Dopodiché clicco Esc, con la freccetta verso destra mi sposto su Security e adesso scendo verso BIOS Sure Start, perché se non disabilitiamo questa funzione molto probabilmente ci darà problemi durante il riavvio. Da qui scendiamo sotto, andiamo ecco qui su Sure Start Secure Boot Keys Protection e diamo invio per deselezionarlo. Ragazzi vi dico già che mi è dato errore, quindi sono tornato nel BIOS, ho disabilitato anche sotto l'Enhanced HP, Firmware Runtime e così via. Adesso faccio Esc, vado in Advanced, scendo in Secure Boot Configuration, poi da questa schermata vado in Configure Legacy Support, ok, clicco qui e da Legacy Support Disable and Secure Boot Enable io passo a Legacy Support Enable and Secure Boot Disable. Clicco di nuovo su Confirm, torno di nuovo sul Main, vado sotto Save Custom Defaults e dico Yes. Adesso vado su Save Changes and Exit, faccio Yes e aspetto che tutto si riavvii autonomamente. Ok, ecco che sta partendo, mi chiede di selezionare questo codice perché ho fatto l'avvio senza il Secure Boot, digito il codice e do invio. Ok, clicco su Esc come mi ha chiesto a schermo, faccio Continue Boot, Ok, ha fatto molto veloce, adesso mi chiede dove voglio installare Umbrell OS. Per selezionare il Secret Expansion, ovvero l'espansione da 2TB, non so perché qui c'è scritto 1.8TB, è il numero 1, abbiamo 1, 2 e 3, quindi io andrò qui, scriverò 1 e do invio. Ok, vedete, qui sta installando a 38 e varia tra i 30 e i 50 Mbps perché ovviamente è un hard disk, quindi è più lento. Ok, adesso aspettiamo che tutto venga scaricato in modo corretto e ci vedremo sicuramente tra una buona mezz'ora, se non di più. Ok, adesso ha finito l'installazione e mi dice di cliccare col stasi tasto per spegnere il dispositivo. Mi raccomando, come dice anche lui, dovrete poi staccare la chiavetta USB prima di far ripartire il computer, quindi prima di riaccenderlo. Adesso vado ad accendere il computerino. Ok, presumo che stia finendo di scaricare o di avviare qualche file di sistema e ci metterà sicuramente più o meno tempo in base a quanto è veloce il nostro internet, presumo. Ok, una volta dato il tempo al computerino di riavviarsi con sopra Umbrella OS, io ho staccato le periferiche, quindi il mouse e la tastiera e anche il cavo HDMI, l'ho riattaccato al mio computer e adesso semplicemente cercando nel browser http.humbrell.local ci troveremo davanti questa schermata. Adesso clicchiamo su start e dovremo creare un nome e una password. Io per comodità adesso me la vado a scrivere su un foglietto di carta che sto prendendo. Ok, adesso l'ho anche inserito nel form e clicco su create. Ok, Umbrella è pronto. Facciamo next ed ecco che adesso potremo utilizzare appieno Umbrella OS. Possiamo fare tante cose in realtà che magari vedremo nel prossimo video perché adesso andremo a vedere il bitcoin node. Andiamo a cliccare su installa e adesso una volta scaricata l'applicazione del bitcoin node dovremo dare modo al nostro computer di scaricare tutta la blockchain di bitcoin sul nostro hard disk. Per l'installazione di tutta la blockchain di bitcoin ci potrebbero volere da indicativamente pochi giorni a volendo anche una, due e anche tre settimane. Questo dipende dal dispositivo che sarò utilizzando ma principalmente dalla vostra connessione di rete. Io fortunatamente ho il gigabit quindi non dovrei metterci più di qualche giorno. Ecco che il bitcoin node è stato installato. Lo clicchiamo. Ci appare questa schermata. Ok, ecco che la blockchain di bitcoin si sta sincronizzando. E noi dobbiamo solamente aspettare che adesso arrivi al 100% per poi poter utilizzare effettivamente il nostro nodo bitcoin. Quindi ci vedremo sicuramente con un prossimo video in cui vi farò vedere come collegarvi al vostro nodo bitcoin e vi farò vedere anche altre funzionalità molto interessanti di Umbrel che ci permette tra le altre cose anche di avere un proprio nodo lightning per bitcoin e ci offre anche altri vari servizi che possono sempre essere utili. Quindi noi ci vediamo alla prossima. Lasciate like, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina. E ciao! Grazie.